Tra l'altro una chicca che vorrei dire qui in pubblico un secondo. Il regolamento della Unione Europea di giugno esclude, cito, ogni discriminazione anche per chi scelga di non vaccinarsi, non soltanto per chi ha dei rischi per la vaccinazione, cosa tra l'altro che da lui è impossibile, perché io posso avere tutti i rischi di questo mondo, che per avere un certificato che mi esonera dalla vaccinazione devo passare 10.000 forche caudine e lo sanno tutti, informarsi dei medici se non ci credete. Ma la chicca è che questa frase del regolamento europeo, anche per chi per scelta non si vaccina, è stata, guarda caso, quest'ultima frase del regolamento UE, non è stata tradotta nel testo della Gazzetta Ufficiale Italiana. Qui siamo di fronte a palesi ipocrisie e a palesi malafede. E allora non va bene, non va bene, lo dico con grande calma e serenità, governo non va bene come state facendo, non va bene come dati i dati, non va bene come informate la gente e questo può produrre conseguenze anche gravi.